Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video voglio parlarvi di questo, uno splitter HDMI. Ora, io recentemente ho acquistato due soluzioni, adesso vi mostrerò anche questa, per acquisire e catturare gameplay o trasmetterli in streaming dalla PlayStation 3. Sì, avete capito bene, non la PlayStation 4 ma la PlayStation 3. Ora, con la Xbox One, la 360, la PS4, la Switch, la Wii, Wii U, eccetera, eccetera, non ci sono problemi. Con la PlayStation 3, sì, perché Sony ha introdotto nella console un blocco che impedisce il collegamento a dispositivi di acquisizione esterna, a meno che i suddetti dispositivi non siano in grado di aggirare questo blocco. Ora, io utilizzo la PAUGE HD PVR2, che vi allego nella descrizione, per trasmettere e acquisire gameplay da tutte le piattaforme. Ad eccezione della PlayStation 3. Con la PlayStation 3 avevo un problema. In altre parole, schermo nero. Non potevo trasmettere in streaming, non potevo catturare gameplay in streaming per questo blocco. Facendomi un po' un giro sulla rete, ho notato che ci sono due possibili soluzioni. La prima è questa, e adesso vi spiegherò nel dettaglio come fare. La seconda è questa. Allora, partiamo prima di tutto dalla soluzione buona, quindi la soluzione migliore. Ossia, se disponete di un dispositivo di acquisizione esterna, perché solo con questo non potete fare niente, come ad esempio la PAUGE, acquistate anche questo, che vi allego nella descrizione di questo video. Quindi, per acquisire da PlayStation 3, magari perché volete mostrare qualche gioco vecchio, volete fare qualche serie particolare, avete bisogno della PAUGE, HDPVR 2, o il nuovo modello, io utilizzo quello, c'è chi ne utilizza altri, io consiglio quello. Anche perché quello ho provato. E questo dispositivo. Avrete bisogno poi, di ben tre cavi. Uno, due, tre. Perché non escono nella confezione. L'alimentatore, per fortuna, lo hanno inserito. E poi, se avete la PAUGE, ovviamente, avrete bisogno di un altro cavo. Ora, come funziona? Qui collegate la PlayStation 3, quindi collegate dalla PlayStation 3 a qui, un cavo HDMI. Qui collegate l'alimentatore che esce nella confezione, girate, e qui collegate un cavo dalla TV alla prima porta, HDMI, e un cavo HDMI dalla PAUGE, per acquisire, a HDMI 2. Infine, collegate la PAUGE al computer via USB, all'alimentatore, e collegate un cavo HDMI dalla PAUGE alla TV. Ora, sembra incasinata come cosa, ma vi posso assicurare che non lo è. Sì, avrete a disposizione tanti cavi, ma non è difficile. Ripeto, un cavo HDMI dalla PlayStation a qui, output, scusate, input, dietro. Un cavo dalla corrente a qui, girate, un cavo dalla TV alla prima porta, dal computer alla prima porta. Il computer ovviamente deve passare per la PAUGE. La PAUGE alla corrente, alla TV, e naturalmente qui. Ora, fatti questi collegamenti, utilizzando OBS, Streamlabs OBS, a PAUGE Capture, eccetera, eccetera, potete streammare e catturare il gameplay dalla PlayStation 3. Quindi, grazie a questo dispositivo, da me testato poco fa, potete aggirare il blocco di Sony. Ora, quest'altra soluzione è una vera, lasciatemi sfuggire il termine, ciofega. Perché non serve, praticamente, a un'emerita mazza. Io l'ho acquistato lo stesso per provarlo, provarlo, anche se, diciamo, è stato pensato per PlayStation 2, funziona anche su PS3. Il funzionamento è molto semplice, alla fine, ma il problema è che causa, appunto, dei problemi. A parte il fatto che si surriscalda, ma vedrete la TV lampeggiare, cioè, l'ingresso HDMI non regge, dopo pochi secondi, si spegne lo schermo, poi si riaccende, e così via. Il funzionamento è semplice, collegate questo all'ingresso component, quindi non HDMI, della PlayStation, e un cavo HD da qui alla pause, o da qui alla TV, insomma. E poi questo, come alimentatore. Questa soluzione, ignoratela. Se trovate questo su Amazon, non acquistatelo. Anche se ha un costo di 10€, io con 10-15€ vi consiglio di prendere questo, perché con questo risolvete al 100% i vostri problemi. potete, non solo acquisire ovviamente dalla PlayStation 3, perché poi è quello il vero scopo di chi vuole streammare o registrare gameplay da vecchie console, ma potete anche mostrare la stessa cosa su due più schermi. Ora, questo è da due, ci sono anche splitter da più ingressi. Io ho provato questo modello e vi posso assicurare che funziona al 100%. Vi allego nella descrizione di questo video tutto ciò di cui avete bisogno per catturare barra streammare gameplay dalla PlayStation 3.